Cigep 2020, ci troviamo allo stand di Fabri 1905 SPA e siamo in compagnia dell'amministratore delegato Nicola Fabri che ritorna dinanzi ai nostri microfoni e telecamere dopo soli tre mesi, bentornato Grazie Fabio, grazie infinita, è sempre bello essere qua con te Direi che dopo tre mesi il mio pensiero è stato ma chissà non avranno presentato nulla visto tutte le novità che hanno presentato a host e invece No, tu sai che noi non stiamo mai fermi e abbiamo portato al Cigep una novità veramente incredibile perché è la prima volta che in Italia si propone una pasta madre Tu mi hai chiesto ma cos'è una pasta madre? Allora ti devo portare alla pasticceria dove si usa come elemento fondamentale il lievito madre per qualsiasi realizzazione di un lievitato Beh in gelateria noi vogliamo portare una pasta madre che sia la base con cui trasformare in gelato ogni dolce o biscotto della tradizione italiana o perché no anche straniera E soprattutto quei dolci del patrono che ogni nostro comune ha ovunque ci sia una chiesa, un villaggio, un paese c'è un patrono e al patrono viene dedicato un dolce E oggi questo dolce può essere trasformato in un gelato Il nome che abbiamo dato a questa pasta madre è proprio il nome a noi più caro di nonna Rachele che è la moglie del fondatore della nostra azienda Rachele Fabri, moglie di Gennaro Questo è un prodotto strepitoso che davvero va a rivoluzionare la realizzazione dei dolci in pasticceria 8.800 comuni, 8.800 potenziali dolci in Italia Ma non finisce qui Ovviamente noi non stiamo mai fermi, questa è una novità eccezionale però non è l'unica Allora abbiamo creato delle nuove paste, abbiamo aggiunto alla linea degli snackolosi Quindi la trasformazione in salsa, in variegato di uno snack famoso E quindi abbiamo quello alle norciole con i pezzettini per ricreare un famoso cioccolatino E poi abbiamo il variegato cassata siciliana, sempre per parlare di tradizione Voi sapete che noi siamo molto fieri e orgogliosi di essere italiani e di creare e produrre tutto a Bologna Nella nostra fabbrica e mandarlo al mondo La cassata siciliana è uno dei dolci più famosi italiani nel mondo Abbiamo creato un variegato, quindi una salsa che può essere non solo usata nella gelateria Ma anche in un parfait, in un semifreddo Quindi in ogni realizzazione dolce e fredda E dare la caratteristica, il sapore e il modo di mangiare i nostri canditi Con addirittura una ciliegia totalmente naturale Una ciliegia rossa totalmente naturale che è un candito quasi inesistente in Italia Noi vogliamo unire la golosità alla salubrità dei nostri prodotti E questo è importantissimo Il nostro cliente principale non è solo il gelatiere o il pasticciere Ma è il loro cliente, il consumatore E a lui dobbiamo dare attenzione E dobbiamo dare qualcosa che sia goloso, che gli dia un attimo di felicità Ma che nello stesso tempo non sia dannoso E anzi, porti dei benefici anche alla salute Per entrare in contatto con voi e saperne di più su questa strepitosa invenzione Proposta al mercato in anteprima mondiale qui a SIGEP 2020 Parlo naturalmente proprio del prodotto Nonna Rachele Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Beh, la cosa migliore è andare nel nostro sito www.fabbri1905.com Lì troverete tutte le informazioni su tutte le nostre novità E ovviamente anche il click su come fare ad avere le informazioni Personalmente, ovviamente senza alcun impegno Grazie Nicola per il contributo Amici, è giunto anche questa volta il miglior momento delle interviste L'assaggio Assolutamente, andiamo subito L'assaggio L'assaggio